Buongiorno, sindaco Cateno De Luca, buongiorno, sono Francesco, spero di non disturbare. Sono tuo padre, io non credevo che sia tu. Come sta? Sto bene, mi ha permesso una grande emozione questo momento. Io la chiamo per complimentarmi per lei, ma soprattutto mi ha fatto molto piacere che lei sia andato a portare i fiori alla Madonna Immacolata. Padre, io sono molto credente e soprattutto cerco di mettere in pratica quelli che sono i principi cristiani nel senso del servizio del politico, al servizio delle comunità. Per me è stato fondamentale non solo questo gesto, ma anche iniziare il mio intervento di saluto alla comunità di ringraziamento con il padre nostro, perché ho sempre avuto la possibilità di sentire la presenza del buon Dio in tutte le mie grandi difficoltà che ho affrontato, ma questo mi ha consentito di resistere a tante cose. Il suo è stato veramente un gesto molto bello. Spero che altri politici seguano il suo esempio. Padre, me lo auguro. Spero che possa avere la possibilità di venirla a salutare. Senz'altro. Magari un giorno faccio chiamare la nostra segreteria. Sì, ci terremo. Mi farà piacere, Sindaco, di incontrarla a Santa Marta. Prima di salutarla, Sindaco, che deve partire la benedizione, vorrei che pregassimo insieme un Ave Maria. Sì. Ave Maria, piena di grazie. Grazie a me, il Signore, con te, così benedetta a tutti i giorni e benedetto a tutti i giorni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, i pratori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amén. Amén. Caro Sindaco De Luca, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. E grazie per il suo gesto. Grazie, Santo Padre. A presto. Buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci. Amén.